Siamo qui con il responsabile dell'azienda Santa Teresa, l'azienda che ha ospitato la mezza maratona del cerasuolo di Vittoria Runners e l'azienda COS. Descrivici Arianna il momento del cerasuolo di Vittoria, che momento economico produttivo state vivendo, è un momento che vi vede insomma sulla scena con prodotti sempre più interessanti e con un dinamismo anche che si comincia a manifestare nella comunicazione, ma descrivercelo tu dal punto di vista di un produttore e della tua posizione di presidente dell'associazione della strada del vino del cerasuolo di Vittoria. Cerasuolo di Vittoria è la più diciamo la DOCG più a sud d'Italia, siamo ai piedi dei Montiblei ed equidistanti dal mare, è una zona molto particolare, siamo nel sud-est della Sicilia, è una zona molto antica, abbiamo una storia importantissima sul vino e adesso una denominazione che abbraccia circa una trentina di aziende vinicole. Siamo delle aziende agricole tutte familiari, delle piccole e medie aziende, lavoriamo pienamente nella viticoltura, sono tutte aziende che sono gestite dalle famiglie, da persone che amano questo territorio particolarmente. Il cerasuolo di Vittoria è un blend di Nero Davolo e Frappato e appunto il Nero Davolo e Frappato sono i nostri vitigni autoctoni, i vitigni che in questa zona ci sono da sempre e che danno questo vino molto fresco ed elegante. È vero che siamo nel sud-est della Sicilia, ma il cerasuolo di Vittoria è un vino che ha questa estrema diversità spesso, quasi a volte non sembra un vino siciliano per questa sua freschezza, per questa sua fragranza. Il momento che stiamo vivendo è positivo, c'è un'unione particolare con i produttori del cerasuolo di Vittoria, tanto desiderio di condividere, di fare eventi insieme, di condividere sia i momenti della produzione, gli scambi sulla parte della viticoltura, sulla parte della cantina. Siamo per fortuna molto in contatto e il nostro desiderio, appunto perché questa unione è forte, è quella di farci vedere anche fuori. Stiamo cercando di smuovere un po' gli animi di tutti i produttori a partecipare, quindi richiamare maggiore attenzione al territorio, se nuovi produttori vogliono venire qui e investire e come anche inorgoglire maggiormente i produttori che già sono presenti. Siamo in reduce da uno a due giorni importante, perché abbiamo organizzato un momento ieri di degustazione e di esplorazione di questi vini di tutte le aziende con la stampa. Ci siamo resi conto che per fortuna la qualità media dei vini di questi cerasuolo di Vittoria è aumentata molto. Tutti i vini assaggiati erano corrispondenti di queste terre rosse. Vittoria è una zona di terre rosse, terre bianche, terre sabbiose che stanno sopra questo banco di calcare. Ed è proprio nel calcare che affondano le radici di questi vigneti ed è per questo che hanno questa freschezza. Il cerasuolo Nette Party che ha concluso la giornata di ieri è un momento enogastronomico, un momento che questi produttori vogliono condividere con la provincia di Ragusa ma anche con l'intera Sicilia e per fortuna ormai è un evento che sta abbracciando anche persone che iniziano a venire da fuori. Abbiamo avuto tutti i produttori del cerasuolo, abbiamo avuto due importanti chef del nostro territorio, i prodotti tipici perché è ovvio che l'intera provincia partecipa a tutto questo. Il vino è legato all'agricoltura, il vino è legato ai prodotti e tutti cresciamo insieme. Lo spirito dell'associazione è proprio quello di essere forte e di fare crescere un poco tutti. Oggi è stata una giornata di festa, questa domenica dedicata alla prima edizione della Ciorasuolo di Vittoria Runners. È una mezza maratona, una 21 chilometri che passa in mezzo ai vigneti dei nostri produttori, proprio in mezzo filari, una parte di sterrato e una parte di battuto. Le esperienze raccolte dai podissi sono state incredibile entusiasmo, a parte le aziende che hanno esplorato, hanno ospitato questa mezza maratona perché i podissi passavano proprio in mezzo a 5, 6 diverse cantine, più parecchi vigneti di tutti i produttori. Sicuramente qualcosa da ripetere, noi abbiamo superato le aspettative, siamo ancora più felici di quello che pensavamo. Grazie un po' a tutta la partecipazione delle aziende le cose possono riuscire, per cui l'unione fa la forza, è una frase che spesso si dice, ma è sicuramente la cosa più vera che oggi abbiamo vissuto.